Noi siamo pronti per la gara di LE e Gemma sta per entrare e niente, in bocca al lupo Gemma, anche lui ci ha fatto in bocca al lupo Io sono dovuto rimanere fuori perché può entrare un solo tecnico e quindi è entrata Camilla e farò il tuffo da fuori per Gemma Sono 65 ginnaste in qualifica e entrano solo le migliori 9 Vai Gemma Gemma sei pronta per la trave? Adesso andrà alla trave Grazie a tutti 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 Pressione? Senti davanti Sei tranquilla? Siccome è stata bravissima gli do un bacino Prima è l'ultima volta segnatelo No, 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 è stata bravissima Manca soltanto il corpo libero Manca solo il corpo libero Sei pronta? Sì Comunque dovete seguirci anche su Instagram a marco-bassa c92 e iscrivetevi ovviamente al canale YouTube Grazie a tutti Forza Gemma Forza Gemma Forza Gemma Apri Forza Gemma 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 E niente, ora dobbiamo attendere i risultati e vedere se Gemma è entrata in finale o no, secondo te Gemma è entrata in finale? Vediamo! Giulia, ti volevamo ringraziare per la tua assistenza che ci hai dato, però si sa che ho fatto tutto io, Gemma ha fatto pochissimo, poi abbiamo l'assistente dell'assistente, eccola qua, Gemma è arrivata a seconda! Ora è finita e Gemma ha preso un argento nel concorso generale, è entrata in finale alla trave e al parco libero, quindi domani ci vedremo per la finale, continuate a seguirci, ciao!